Il vetro del padiglione anteriore, il parabrezza e i deflettori laterali della nuova Espace formano un posto di guida panoramico composto da quattro sezioni in vetro. Ciò consente una maggiore visibilità per il conducente e per i passeggeri della seconda fila. Il posto di guida centrale prevede uno schermo TFT di fronte al conducente, che è possibile riconfigurare, e un display di segnalazione in base alla versione. Una console centrale attraversa il vano abitacolo come un ponte e contiene lo schermo di tipo capacitivo da 8,7 pollici in formato verticale e la leva del cambio. L'illuminazione dell'ambiente può essere personalizzata in base alla modalità di guida scelta. La nuova Renault Espace offre sedili anteriori ad alto comfort dalla forma particolarmente sagomata e grandi poggiatesta. In base alla versione i sedili sono regolabili manualmente. O ad azionamento elettrico tramite i pulsanti laterali del sedile. Un contattore consente l'accesso diretto al menu Sedili sullo schermo multifunzione. I sedili termici vengono attivati tramite i pulsanti sulla console centrale. Dopo aver inserito il contatto, premere il contattore del sedile desiderato. La spia del contattore si accende. Una seconda pressione consente di aumentare la temperatura. Una terza pressione consente di spegnere il riscaldamento. Il sistema regola automaticamente il riscaldamento e, se necessario, lo disattiva. È possibile regolare la funzione di massaggio dallo schermo multifunzione. Selezionare il sedile conducente o passeggero, il tipo di massaggio, l'intensità e la velocità. Conducente e passeggero possono utilizzare la funzione di accesso facilitato. Il sedile arretra automaticamente quando l'occupante lascia il veicolo e torna in posizione quando si preme il pulsante di avviamento. Il conducente può regolare il sedile passeggero tramite i pulsanti sul proprio sedile. Questa è la funzione di regolazione di cortesia. Tale funzione può essere attivata dallo schermo multifunzione. E' possibile memorizzare le posizioni dei sedili anteriori e dei retrovisori esterni. In seguito all'avviamento del motore, regolare la posizione del sedile. Quindi, innestare la posizione D per regolare la posizione dei retrovisori esterni in modalità di marcia avanti. Infine, innestare la posizione R Per regolare la posizione dei retrovisori esterni in retromarcia. Per memorizzare le posizioni, selezionare Salva sullo schermo multifunzione. E' possibile memorizzare fino a sei profili di regolazione. E' possibile recuperare le posizioni memorizzate dei sedili anteriori solo a veicolo fermo. La regolazione di altezza e profondità del volante consente al conducente di individuare facilmente una buona posizione di guida. Il retrovisore interno cromato è dotato di spie incorporate per le cinture di sicurezza e per la disattivazione dell'airbag passeggero anteriore. I comandi per lo scorrimento delle informazioni sul computer di bordo, dell'autoradio e del sistema di navigazione sono situati sul volante. Grazie a tutti.